I 18 anni sono un traguardo importante in tutti i campi, anche per esempio per una manifestazione culturale. Il fiume e la memoria quest'anno diventa maggiorenne ed è pronto a festeggiare le 18 candeline esattamente lì dove è nato, nel cuore della Pescara Vecchia. Si diventa maggiorenni, innanzitutto è questa diciottesima edizione, l'edizione della maturità, continuiamo ad abitare quei posti, quel luogo, quel borgo che noi chiamiamo centro storico e che si affaccia, è nato e si affaccia sul lungo fiume e continua quindi a caratterizzare la location del nostro evento e del nostro festival. La memoria è il tema conduttore, un pochino che per ogni anno ci accompagna nella scelta degli spettacoli che ospitiamo, delle performance che ospitiamo e anche che coproduciamo e alle quali in qualche misura diamo vita. Quest'anno soprattutto abbiamo delle importanti coproduzioni come un paese normale, è un testo di Luciano Russi, a proposito di memoria, celebriamo in qualche misura il decennale della scomparsa di questo grande intellettuale abruzzese, ex rettore dell'Università di Teramo, attivo su vari campi del pensiero, fra questi è stato anche di produzione piccola, prodotto poco, però è stato anche drammaturgo. Un suo testo, appunto un paese normale, un testo dedicato al risorgimento, lo stiamo allestendo da qualche mese, siamo noi come festival produttori e coproduttori insieme ad altre strutture, tra cui la Fondazione Luciano Russi. Questo spettacolo debutterà il 19 luglio e abbiamo poi un debutto, quest'anno abbiamo inaugurato anche una coproduzione di carattere cinematografico. Padre vostro è il titolo di questo film che sarà proiettato sabato 20, in prima nazionale, per cui siamo emozionati e contenti. L'anno scorso abbiamo celebrato Mimmo Locasciulli, quest'anno Luciano Dorisio. Vogliamo nel tema della memoria ricordare i nostri grandi maestri, precursori, anche della mia generazione, omaggiarli quindi con delle iniziative. Di Luciano Dorisio proietteremo due film, uno nell'anno del suo trentennale, che è, ne parliamo lunedì, ci verrà a far visita all'attore protagonista Andrea Roncato. E il giorno dopo Guardiani delle nuvole, un film straordinariamente bello con un cassa stellare, ma che per strani esiti e marchi ingegni dell'industria cinematografica non ha trovato mai distribuzione, per cui sarà, per quanto sia del 2004, sarà una sorta di prima anche questa proiezione del secondo film di Dorisio. Grazie.